Io credo che chiunque, al di là di fare l'assessore o meno, se ha i sintomi debba sottoporsi al tampone, quindi che faccia l'assessore o che non lo faccia. Mi spiace per quello che sta accadendo alla Giunta regionale, perché immaginate voi in un momento in cui si deve decidere, prendere e assumere decisioni così importanti, gestire una crisi così importante, sicuramente quello è un ulteriore elemento che non aiuta. E quindi, come ho dato la mia solidarietà al Presidente Fontana, la do a tutta quanta la Giunta regionale della Lombardia, ma abbiamo anche il modo di darlo, perché ormai i sistemi di emergenza regionali stanno lavorando insieme, perché la gestione delle camere di terapia intensiva o la si affronta in un'ottica nazionale oppure si rischia di mandare qualche regione in affanno. E noi non dobbiamo dimenticare che i cittadini sono tutti cittadini, non è che a seconda della regione in cui abitano devono avere possibilità o meno di accesso alle strutture sanitarie, quindi tutti insieme, credo a livello globale, a livello mondiale, si deve fare il massimo per garantire il sostegno che ne ha bisogno.